Ieri, nell'ennesima conferenza stampa di Giuseppi, c'è stato un lampo, un velo squarciato. La regia ha avuto sempre e solo due inquadrature, pressoché fisse. Una sul presidente del consiglio, l'altra sulla postazione approntata per la domanda del giornalista di turno. Com'è giusto che sia? Nessuna deroga su altri campi lunghi o dettagli, mai. Soltanto un'eccezione per pochissimi secondi per inquadrare niente meno che Rocco Casalino, il portavoce del premier. E già me lo vedo il vanitoso tuttofare che segue la comunicazione del Movimento 5 Stelle, ex del grande fratello, ma non facciamogli sempre pesare il suo passato, che va dall'austero regista e gli chiede, forse pietisce come un telepresenzialista, come un Alessandro Cocco Buonanima, qualsiasi, o peggio ancora, comanda, l'inquadraturina personale, l'autopromozione che non fa mai male. E così da oggi abbiamo anche il Io Cero, la bollinatura del Rocco numero due. Ma l'altro Rocco, Sifredi, come è noto ai più, fa bollinature ben più pertinenti, puntuali e incisive.